l'azione del gol a lei Bugeia Pierone isolata vai in avanti cerca lo spazio dentro l'aria cerca l'assist per Bugeia con il mancino la palla rimane lì ancora Bugeia appena entrata arriva il gol della Maltese 0-2 il parziale qui allo stadio Acquaviva arriva la firma della Maltese Bugeia al minuto numero 80 sull'incursione della corsia mancina da parte di Pierone che va via bruciando con lo scatto la difesa di San Marino Academy uno sguardo in mezzo Piazza prova a intervenire la palla arriva Bugeia si oppone con Isawa ma nulla può Ciccioli e la difesa di San Marino Academy sulla ribattuta vincente della Maltese appena entrata da pochi minuti che sigla il gol dello 0-2 e trova il gol numero 6 in questo campionato la classe 2004 4 4